Furto questa notte presso la scuola dell'infanzia Mozzillo in piazza Mediterraneo d'Agropoli. I gnoti si sarebbero introdotti all'interno del plesso scolastico, scassinando una porta e portando via generi alimentari destinati alla mensa dei bambini e alcuni pc portatili. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Fabio Lagrello. La mensa per oggi è stata sospesa e nel corso della giornata sarà effettuata anche la sanificazione degli ambienti. Purtroppo in quella zona, ma come anche in altre della città, non ci sono videocamere di sorveglianza, altrimenti ci sarebbe stata una probabilità di acquisire dei filmati per risalire responsabili.